Dal puro divertimento all'esplorazione estrema, il tuo riferimento è Eligio Romano Ferrino Store. Via Piano d'Arvine 15 a Tripanda. Dai delegati della FIOMCGL e della FCA, una lettera aperta consegnata ai cittadini di Avellino per spiegare gli effetti della crisi sui lavoratori dello stabilimento di Prato-la-Serra. Una crisi produttiva che si è aperta nel 2008 ed è tutt'ora irrisolta, si legge nei volantini, distribuiti questa mattina al mercato. I dati sul ricorso di ammortizzatori sociali offre un quadro molto preoccupante, avverte la FIOMCGL. 1.500 giornate di cassa integrazione per ogni lavoratore con una perdita salariale che ha raggiunto la cifra di 50.000 euro di media pro capite. All'oggi nel sito FCA si contano circa 400 posti di lavoro in meno. A rischio, ribadisce il segretario provinciale della FIOMCGL, Giuseppe Morsa, non è solo il futuro di circa 1.800 famiglie, ma di gran parte dell'economia della provincia. In questo senso, conclude il testo del volantino, il sindacato chiede ai cittadini supporto in una battaglia che presso farà tappa a Napoli con un sit-in sotto la sede della regione. Oggi abbiamo l'obiettivo di farci una chiacchierata con i nostri concittadini della provincia di Avellino per dire come si vive all'interno della FCA di Prato-la-Serra. Dobbiamo sollevare il velo dell'ipocrisia, dobbiamo dire le cose come stanno e sensibilizzare l'opinione pubblica affinché ci sia un intervento importante su Prato-la-Serra. Voi chiedete anche la piazza, insomma. Assolutamente. Il nostro intento è parlare con i cittadini perché loro devono aiutarci a fare pressione a chi ha il potere decisionale in questo momento. Quindi FCA e governo affinché Prato-la-Serra viva come deve vivere. Qual è il rischio per l'FCA di Prato-la-Serra? Il rischio è grosso. Già questo che si vive è un rischio. Il continuo ricorso a cassa integrazione che va avanti dal 2008 per noi non va bene. Noi vogliamo tornare alla normalità. Non chiediamo assistenzialismo, chiediamo lavoro. Mi pare questo è il messaggio che debba partire dalla piazza di Avellino oggi. Il prossimo contatto sarà con le istituzioni? Il prossimo contatto immaginiamo di fare una protesta sotto la giunta regionale la quale continua ad essere la grande assenza in queste grandi vertenze irpine.